Cristina De Tullio del gruppo Spatangus è la nona edizione di una competizione di nuoto particolare. Diciamo di cosa si tratta e quando verrà? Allora, si tratta del nono trofeo di nuoto Città di Pineto. Si terrà il 2 luglio nel mare antistante Lido Donna Italia a Pineto e vedrà due percorrenze, una nuotata in acqua libera, due percorrenze, la classica, dalla piattaforma Fratello Cluster a Riva e quest'anno una grossa novità che è la percorrenza doppia, quindi un gruppo di nuotatori partirà da Riva, virerà nei pressi della piattaforma e tornerà indietro. Ecco, a chi è dedicato e a chi è aperto? Questa manifestazione che è competitiva anche se in realtà non lo è, quindi siamo al limite appunto per passione sportiva, è dedicata a delle associazioni del territorio, in particolar modo è dedicata da Bilbaite a dimensione volontario e poi con l'ausilio di vendita di oggetti, il crucilibro piuttosto che maglie o sacche, aiuta anche il canile di Pineto e la Caritas. Sicuramente il bel tempo è un componente fondamentale di questa manifestazione, una manifestazione di nuoto che vuole essere stimolante per l'aiuto sociale che vogliamo dare al territorio e soprattutto per la sfida personale che ogni nuotatore può avere con la reazione e la relazione uomo-mare. Io mi occupo della sicurezza in mare, per cui dobbiamo anche garantire, con Cristina e con gli altri amici, garantire che tutti i nuotatori siano certi di poter affrontare la sfida di se stessi con il mare in modo sicuro.